la mia classica passeggiata io tutti i pomeriggi dalle 5 e poi faccio sempre una passeggiata con la bici cioè 5 6 tipi di bici usate ma tutte in ottimo stato di efficienza ci troviamo avete cappuccini comunque la marcia adesso sono cose le 5 del 26 agosto 2022 sto fermandoci qui questi sono tutti i luoghi da ragazzini l'epoca mia non era così il telefonino non c'era si andava tutti qua sopra la montagna qua era pieno di alberi di ciliegie adesso con la siccità la maggior parte sono essiccati notiamo da circa 400 metri questa strada conduce salendo all'ex compendio fra di cappuccini guardiamo un po questo muro questa la sua tendenza vedete una barata alta qui in bondi in bondi ecco la parte periferica sud est del comune di luogo dei marci qua viene la spinacaccia la spena del terreno vabbè io continuo mia escursione potestica ciclistica perché ogni tanto parcheggio la mia monta baca e proseguo a piedi come sto facendo adesso